I cambiamenti che avvengono quando si passa da una sequenza a un'altra Cantarini, cosa ho detto? Fernando Cotto, 14 16 Sì che poi i difensori al fantacalcio non me ne frega niente, cioè sono inutili Bisognerebbe trovare qualcosa per spronare a comprare pure i difensori Tipo, non lo so, una sorta di modificatore difesa No eh, una stronzata Vabbè, io domani Balbo te lo lascio Però tu sai cosa voglio No dai, non puoi Vabbè Gedeone il secchione, ti faccio finire la collezione Però promesso, domani Balbo è mio Una Pepsi, grazie Rossi Couto, Coler, Angloma Gian De Biaggi, Brolin, Benny Carbone e il Principe Giannini Compensato dalla scommessina Gazza Cascogne E attacco atomico Balbo, Vialli, Zola e questo giovane Flachi della Fiorentina che secondo me è bravo Leo, 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 la formazione, dai Eh, grazie, grazie, grazie Cioè, ma pronti il big match con Skuravi, Kolivalov e Lulu Oliveira? Stai pensando quadrimenzionalmente, canta Claudio, ho lasciato la formazione nella cassetta della posta, sono le sette, quindi sono perfetto Balbo! Balbo! Pronto? Pronto? Salve? Sì, sono Lorenzo, c'è Leonardo? Grazie, grazie Leonardo! Balbo! Lorenzo, sto telefono! Mamma, ho avuto uno strano incubo Ho sognato di essere tornato indietro nel tempo Sì, amore di mamma, ma è una che va a scuola, però Ma chi se ne fosse?